ed eccoci come sempre siamo qui siamo tornati bello a tutti ragazzi con il rizzo fabio fabio detto leonidas e detto igedrasil il boss oggi abbiamo delle special guest che avete già visto nel video di torino qui in alto nelle schede eccoci qua al meet and greet con voglia di un caro vivo stiamo girando un corno che uscirà tra qualche mese io ho fatto tanta prestazione per essere ai livelli di questo atleta che nonostante 60 anni di età è ancora carico con leone ho preparato tanto da lui e sono carichissimo per mostrarti il mio nuovo progetto che uscirà a breve sono carichissimo il mio video il maestro ha distrutto la morte nera semplice questo troppo i tamburi della liberazione i tamburelli il boss tamburelli seguiamo i tamburi della liberazione sono qua a prendere il panino con la carbonara eccolo perfetto sgagno un po' il suo carbonara burger sgagno un po' il suo carbonara ecco la stasera è un nerd che mi ha imbarcato qui anche perchè abbiamo trovato il signo davvero i vichinghi dopo ci passiamo quello grande e io il boss quello con l'ivispo cos'è? ci devo fare un vlog ci faccio il vlog? ci faccio il vlog? si prossimamente sul canale sagra del peperone di armagnola sagra della madonna cazzo guarda sgagno un po' il mio uomo mafè mafè riesco ad andare a prendere dei fazzolettini che erano là grazie mafè non c'è nessuno che fai utilizzare il statuaggio quindi abbiamo mafè se raggiungiamo quanti like? 100.000 100.000 like mi faccio un tatuaggio in fiera mafè grazie Che cazzo sta succedendo? Oddio! Oddio, mi butta giù il canale! Bambine! No, oh mio! Mi butta giù il canale! Ci arrestano! Alla devi conoscere per forza la canzone! E se la so, ti perdiamo! E se io non la so? E se non la so? E se invece io voglio provarlo? E se non la so? Ale, quando vediamo che tutti partono, partiamo anche noi! Qui qua! Allora... Gente, siamo perso fine di era! L'abbiamo visitato, abbiamo fatto un sacco di cose! L'abbiamo comprato! L'abbiamo comprato soprattutto! Ma vogliamo fare un'intervista a colui che con la sua tenacia si è messo in fila! E' stato in fila... Quattora! Ma non lo so, la cosa? Ma quanto è possibile per vangolare, per fare la foto con... Sì, pre... Eccolo! E questo è la testimonianza! Il padre è finito! Il padre è cacallo! Il padre è stato bellissimo! Gli ha stretto la mano con la mano sinistra! Ha una bella stretta personale! E hanno fatto spadalato il padre! Mestro, parole a Caldos dopo questo incontro! La parola a Caldos è stato emozionante! Veloce ed emozionante! Vabbè, abbiamo il cameraman! No, no, occhio qua! Lì c'è lei! Siamo all'uscita dal Milano Comics & Games! Siamo catastrati! Stanchissimi! Però... E' stata una giornata forte! Questo è tutto! Quindi un saluto! Da Lomrix! Ricordatevi di iscrivervi o altro! Ale! Iscrivetevi al canale! Lasciate un like! Se il video non vi è piaciuto lo stesso! Lo scazzano la fai a me! Un saluto dal Milano Comics & Games! Tutta la vita di noi! Passa, ecco. Faccia! Tutta la vita! Io te qui! Grazie a tutti.